Guarda, i slav, che popolo, che popolo, ma neanche un popolo, come due popolo, guarda, Marone, come mi ha tenuto i camion, come me l'ha tenuto, grazie, grazie, guarda, me l'ha tenuto veramente un giuiello, Marone, c'è anche i film, slav, brava gente, guarda la fiancata, liscia, lustra, linda, ma pulita, guarda la punta. Ho sempre detto io, come i slav. Come i slav. Tirgen! Chi è? Ciao Tirgen! Grazie ancora di tutto! Marco, grazie a te.